Dopo i gravi episodi registrati ieri Giulianova, prima del derby del campionato d'eccellenza contro il Teramo, il questore Carmine Sorriente ha voluto tracciare un primo bilancio delle indagini scattate immediatamente dopo i disordini e che hanno portato all'arresto di 5 persone tra il Tras del Teramo e 2 del Giulianova, di età compresa tra i 26-37 anni, tutti con precedenti, uno di questi è stato anche accusato del ferimento di un carabiniere. Subito dopo terminata la partita, quindi messa in sicurezza tutte le persone e tutte le persone che hanno partecipato come pubblico all'evento sportivo, immediatamente l'ufficio investigativo della questura, quindi la Digos, ha iniziato a visionare tutte le immagini che, come diceva il dirigente della Digos, sono non soltanto quelle riprese dai nostri operatori ma anche da esercizi ed abitazioni private presenti sul posto. È stato un lavoro incessante sin da ieri che è terminato stamattina con l'individuazione per adesso di queste 5 persone, fra cui c'è il soggetto che materialmente, inicovocabilmente, ha aggredito il maresciallo dei carabinieri provocando gli irresioni di cui sapete. Sono stati oltre 60 i tifosi coinvolti, le forze dell'ordine continueranno le indagini per risalire a tutti i responsabili utilizzando i video girati dai testimoni e dalle telecamere di sorveglianza. Continuano gli accertamenti, continuano le indagini, verificheremo altre responsabilità e ovviamente saranno segnalate alla Procura della Repubblica quelli di rilevo penale, quelli amministrativi, valuteremo i provvedimenti che sono di competenza dell'Autorità Provinciale di Pubblica di Sicurezza. Prima di una manifestazione sportiva c'è un comitato di ordine di sicurezza pubblica tenuto dal prefetto e poi c'è un tavolo tecnico dove a questi tavoli parteciano diversi attori e ovviamente le indicazioni date dal prefetto e dal questore sono indicazioni che servono poi alla riuscita in sicurezza della manifestazione. Verificheremo che tutte queste indicazioni date siano state poi effettivamente applicate. Il comitato di ordine di sicurezza pubblica è un tavolo ufficiale, non un tavolo dove si va a perdere tempo. Grazie. Grazie.